Si preparano per un furto notturno raggiungendo il luogo scelto con un'auto rubata e tutti gli attrezzi del mestiere all'arrivo degli agenti delle volanti li mette in fuga costringendoli ad abbandonare tutto per non essere arrestati. E' successo questa notte in Corso Roma in pieno centro Brindisi quando intorno alle 3.30 una volante impegnata appunto in attività di controllo e prevenzione ha notato una lancia Y fermatasi sul corso in maniera sospetta dall'auto che aveva ancora il motore acceso sono poi scesi i ladri che a cortisi della battuglia hanno deciso di fuggire immediatamente abbandonando auto e strumenti per lo scasso. Nel mezzo risultato poi rubato gli agenti hanno trovato piedi di porco, cesoie, moletta, mazzola ed altri attrezzi utili appunto allo scasso. Non è del tutto chiaro quale fosse l'obiettivo dei ladri considerando che nella zona interessata ci sono diversi negozi, una gioielleria, un ottico e un'agenzia di scommesse. L'auto rubata è stata restituita al proprietario mentre uno dei malviventi individuato è ricercato tuttora dalla polizia.